Torna ad alzare i toni contro Israele il presidente turco Erdogan, definendolo durante un discorso al gruppo parlamentare del suo partito, uno stato terrorista per aver massacrato 12.000 persone, di cui la maggior parte bambini. Parole mai così dure da parte del leader di Ankara, che ha difeso ancora una volta Hamas. È un partito politico che ha vinto le elezioni in Palestina, ha detto, e poi è stato delegittimato da Israele. Invettive anche contro il premier Netanyahu, la sua fine è vicina alle parole del presidente turco, che si è detto pronto a portare il primo ministro israeliano davanti alla Corte Penale Internazionale dell'AIA con l'accusa di genocidio contro il popolo palestinese e di crimini contro l'umanità. A replicare il leader dell'opposizione israeliana, non prendiamo lezioni di moralità dal presidente turco, un uomo con un passato spaventoso in materia di diritti umani, ha affermato Yair Lapid, sostenendo che alcuni dei terroristi di Hamas sono stati protetti da Erdogan. Nel pomeriggio telefonata tra la premier Meloni e lo stesso presidente turco, l'Italia è impegnata per il rilascio immediato degli ostaggi da parte di Hamas, ha fatto sapere Palazzo Chigi, e per delle pause umanitarie a favore della popolazione civile. La Turchia invece ha chiesto al nostro paese di sostenere il cestatelfuoco a Gaza. Intanto gli occhi del mondo sono puntati anche sul faccia a faccia di stasera tra il presidente americano Biden e quello cinese Xi Jinping, a margine del vertice di San Francisco sulla cooperazione economica Asia-Pacifico. Al centro del colloquio la necessità di mantenere sotto controllo la rivalità tra le due superpotenze. Gli Stati Uniti spingono anche perché Pechino utilizzi la sua influenza sull'Iran per dissuadere Teheran dall'entrare in guerra e sulla Russia per far tacere le armi in Ucraina. Il Cremlino ha definito l'incontro Biden e Xi Jinping importante per il mondo intero.